I am the tiger Fino alla campana Grida lì Buma Ieri Valla a fuoco Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi 24 ore su 24 7 giorni su 7 Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento Gratis e senza vincoli economici Per l'immagine dei tuoi eventi Scegli Fighters Life Scegli il meglio Visite la tua passione e la tua passione Vele solo Per l'immagine dei tuoi eventi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo l'onore e il piacere di riavere ospite qui con noi, Marianna Vasadouro del Team Kick'n'Punch Promotion. Ciao Marianna, ben trovata. Ciao Vale, buonasera. Allora ovviamente, Marianna Vasadouro, Team Kick'n'Punch Promotion, The Night of Kick'n'Punch. Ci siamo cara Marianna, il 2 marzo arriviamo alla quindicesima edizione, quindi numero tondo tondo e tante novità che ci aspettano per questa grande serata all'insegna degli sport da combattimento. Sì Vale, intanto buonasera di nuovo a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi su questo canale a parlare dei nostri sport e dei nostri eventi. Come hai detto esattamente, siamo giunti alla quindicesima edizione di The Night of Kick'n'Punch che ritorna diciamo su Milano dopo qualche anno e ritorna in un posto che è un po' la storia del pugilato e di sport da combattimento, perché questa quindicesima edizione la organizziamo al famoso e storico Teatro Principe di Milano, un teatro in centro, un teatro che è stato sede di tantissimi altri eventi di pugilato e anche noi abbiamo organizzato la quinta o la sesta edizione, ora esattamente non ricordo, forse la quinta di un The Night of Kick'n'Punch appunto ormai qualche anno fa. Quindi siamo super felici che hanno ridato modo a questa location che è molto suggestiva e molto molto particolare, anche perché sei proprio nel cuore di Milano, quindi non è il classico palazzetto, è un teatro molto suggestivo che crea un'atmosfera e veramente un ambient molto molto particolare da vivere, perché è proprio unico nel suo genere. E siamo felici, onorati, che finalmente siamo riusciti a riaverlo per noi e per i nostri sport. Allora, io non posso che essere d'accordo con quello che dici, perché ho avuto il privilegio di annunciare più di un evento all'interno del Teatro Principe, che ricordiamo si trova a Viale Plini, è bellissimo perché è proprio una classica arena per gli sport da combattimento, è suggestivo perché entrando ovviamente c'è questa palconata che diciamo è sopra il ring, quindi i fighters si sentono veramente all'interno come di un film. Possiamo dire, ne abbiamo visti tanti con protagonisti Jean-Claude Van Damme, Bruce B, quindi c'è quest'area proprio, questa arena, si respira proprio quest'area di gladiatoria. Ecco, lasciatemi dire questo termine. In più, cara Marianna, ricordiamo che il Teatro Principe è anche un risvolto storico, perché all'interno del quale sono state girate le scene del famosissimo film Rocco e i suoi fratelli con Alain Delon, se non sbaglio, e proprio le scene di Pugilato sono state girate all'interno del Teatro Principe, quindi c'è anche un risvolto storico cinematografico. Quindi invito tutti coloro che sono nelle possibilità di raggiungere Milano il 2 marzo, di mettere mani al portafoglio e acquistare un tagliando, se ne sono rimasti ovviamente, per venire a vivere dal vivo un evento meraviglioso e suggestivo. Sì, sì, no, Vale, hai perfettamente ragione, nel senso che noi ci abbiamo pensato tanto, perché ovviamente l'unico, diciamo, aspetto che abbiamo valutato nella scelta della location era un po' anche la capienza, perché chiaramente il Principe è esattamente come l'hai descritto, è proprio un'arena, si respira questa sensazione perché si entra tramite questo, diciamo, questa, chiamiamola passerella, questo ingresso molto singolare e ci si affaccia subito su questa grandissima balconata, dove tu veramente sei sopra gli atleti. In più c'è poi tutto il piano terra, quindi bordoring e un palco rialzato, dove abbiamo creato un bordoring gold, che ormai è esaurito, quindi quella parte ormai non è più acquistabile, e ci sono questi posti, diciamo, un pochino più confinati, un pochino più riservati, ma che creano tutto nell'insieme, come veramente una cerchia, gli atleti, siccome appunto il posto è bello compatto, non piccolo, è proprio compatto, si è proprio attaccati all'atleta, quindi anche, adesso non voglio spoilerare troppo, però anche la scelta che abbiamo fatto della pasterella d'ingresso è molto singolare, nel senso che faremo sentire veramente gli atleti molto molto vicino al loro pubblico. Quindi, ti dicevo, l'unica, diciamo, valutazione che ci ha tenuto un attimo così era proprio la capienza, perché abituati noi a riempire palazzetti, teatro della luna, insomma, nelle nostre varie edizioni, come saprai, abbiamo veramente riempito 2-3 mila posti di spettatori. Qui al Principe ce ne sono 6-700, quindi una capienza un pochino più limitata, ma abbiamo fatto una scelta proprio diversa, di riaprire le porte al Cugilato, di ritornare a Milano e di ritornare sempre, come ormai lo sai, è un po' nostra abitudine, scegliere quelle location più particolari, più di nicchia, per regalare ovviamente sempre uno spettacolo unico. Il team Kick'n'Punch ci ha sempre abituato, diciamo, a delle novità e ad essere quel mezzo passo avanti, sia nelle idee che soprattutto nella trasformazione di esse in realtà. Marianna, innanzitutto, ecco, chiudiamo questa fase dell'intervista dando le info per tutti coloro che vogliono acquistare i biglietti. Allora, come dicevo, avevamo, perché nel giro di dieci giorni, per fortuna sono esauriti, avevamo tre fasce di biglietti acquistabili, ne sono rimaste due, per cui il bordering gold è andato esaurito, abbiamo ancora dei bordering da 45 euro e la balconata a 30 euro. Sono acquistabili i biglietti o nelle nostre due sedi delle palestre, una di la Kick'n'Punch Rozzano a Rozzano oppure la Kick'n'Punch Downtown in Via Vivaio a Milano. Per chi non fosse pratico o non fosse di Milano, c'è sui nostri vari siti social un numero di cellulare da poter contattare sia telefonicamente che su WhatsApp dove si possono prenotare, pagare i biglietti con un bonifico e verranno poi ritirati la stiera dell'evento in cassa. Ricordiamo che l'evento sarà sabato 2 marzo, start alle ore 20. Quindi vi invitiamo a essere numerosi, visto che i posti poi non sono poi così tanti, quindi a un certo punto penso che chiuderemo i botteghini. Considerando come stanno andando le prevendite, direi che non ci sarà poi tanta gente che potrà acquistarli lì. Esatto, quindi chi fosse veramente interessato, non aspettare l'ultimo momento, perché a differenza di altre location dove magari c'era più possibilità di poter inserire spettatori, il 2 marzo più che mai si preannuncia un sold out ben prima della data appunto di The Night of Kick and Punch. Quindi ricordiamo ancora una volta l'info, andate sugli account ufficiali social del team Kick and Punch per trovare l'info line per la prenotazione dei biglietti tramite il bonifico bancario oppure nelle sedi del team Kick and Punch a Rozzano o a Milano. Cara Marianna, andiamo un pochino a spoilerare quello che sarà il matchmaking, perché tornano sul ring i diamanti del vostro team. Sì, c'è solo una notizia che abbiamo avuto. Allora sì, tornano tutti i nostri atleti, tutto il nostro team di agonisti salirà sul ring del principe, tutti avranno diciamo un prestige fight quasi tutto internazionale, quindi abbiamo scelto anche per questa edizione come sempre per tenere alto il livello dei nostri match, del matchmaking e la spettacolarità dei match. Diamo merito a Valente, se l'organizzazione è mia, la parte del matchmaking almeno la diamo a lui e quindi su questo lui non ha mai 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 sbagliato ed effettivamente tutti i match hanno davvero un risvolto sempre spettacolare e cosa che non mancherà ovviamente appunto neanche in questa edizione, proprio perché i nostri atleti dovranno confrontarsi con quasi tutti con degli atleti internazionali, spagnoli, belga, quindi veramente ci sarà da divertirsi. L'unico assente, grande assente, però ne siamo comunque felici, sarà Luca Cecchetti, perché non combatterà da noi, perché il 20 marzo sarà a Tokyo al K1 Max a fare un match davvero, davvero importante che potrà portarlo anche a un mondiale là da loro. Quindi siamo onorati, felici che uno dei nostri veramente gioielli non sarà presente, questo ci spiace, ma c'è una causa più che valida e questa esperienza a Tokyo dopo Joseph che è entrato nel circuito, la Siri, che è un nostro atleta ed è come ormai è risaputo a tutti nel circuito di One Championship, avere anche Luca Cecchetti nel circuito del K1 Max ci rende super orgogliosi e quindi lui sarà presente, perché chiaramente sarà presente, parlerà del match, ci sarà modo di vederlo sul ring in altre vesti, ma appunto sarà sul ring del K1 Max a Tokyo il 20 di marzo. Per questo non poter... Ovviamente, assolutamente, Marianna, e quindi il 2 marzo avremo la possibilità di caricarlo a dovere, come si dice, a pallettone, come diciamo in gergo, per questa grande sfida di Tokyo, quindi il nostro sniper è pronto a prendere la mira. Marianna, allora, abbiamo parlato di One Championship, abbiamo parlato del circuito dove speriamo Luca Cecchetti può entrare da protagonista, però, come ho detto all'inizio della nostra intervista, Kick & Punch vuole essere sempre mezzo, se non un passo avanti, e si sta concretizzando una nuova promotion e andiamo a specificare bene non una federazione, ma una promotion, quindi quello che succede all'interno di UFC, One Championship, eccetera, eccetera, in piccolo, ovviamente, ma speriamo che ci sia poi uno step by step per poter crescere esponenzialmente, una grande novità, Revolt. Esatto. Il 2 marzo, il 2 marzo, ci sarà la prima fase, la prima storica fase di Revolt, adesso poi ci spiegherai cosa sarà, saranno impegnati quattro atleti nella categoria 70 kg che si sfideranno in due match e i vincitori andranno poi a scontrarsi in un'altra data, in un'altra prestigiosa location per un qualcosa di importante e di innovativo per quello che concerne di sport da combattimento italiani. Vai, Marianna, al tuo momento. Sì, Vale, hai, diciamo, già presentato in maniera precisa e sempre puntuale quelli che possono essere i nostri obiettivi. Come sai, ormai noi organizziamo da tanto tempo, da tanti anni, Angelo ha avuto la possibilità in questi ultimi anni di girare queste grandi, diciamo, organizzazioni, quindi queste grandi promotion e quindi abbiamo pensato perché dobbiamo sempre andare dagli altri, perché anche noi non cerchiamo in Italia per poi espanderci chiaramente e creare un qualcosa di grande per questo mondo e per questi atleti. E così ci è venuto in mente anche come è nostra un po', diciamo, nostra abitudine creare un qualcosa di innovativo e abbiamo pensato che il modo migliore per buttarlo fuori era subito con dei match abbastanza importanti. Infatti, inizieremo a presentare Revolt, il nome della nostra championship si chiamerà Revolt e il 2 marzo ci saranno, come dicevi giustamente tu, due match, quindi 4 atleti 70 kg che si scontreranno e sono già semifinali sostanzialmente, quindi i vincitori dei due match si scontreranno e a questo punto spoileriamo dove sarà fatta la finale perché è già definita data e luogo, quindi ritorniamo alla reggia di Venaria l'8 di giugno 2024 dove oltre a tantissimi altri match ci saranno tantissimi altri titoli verrà disputata la finale di questo torneo che ha come nome iniziale Sub Fighting to Revolt Tournament quindi il nome del torneo adesso del 2 marzo è questo Sub Fighting Tour Revolt Tournament quindi torneo che si concluderà alla reggia di Venaria con un diciamo monte premi molto molto importante per il finalista non spoilero la cifra perché ci sarà tutta diciamo una presentazione particolare alla reggia e questo è proprio un primo passo per dimostrare l'impegno quanto ci crediamo e quanto vogliamo che questo aspetto anche dal punto di vista remunerativo sia valido e sia forte come segnale nel nostro mondo e quindi ci teniamo tantissimo all'interno del torneo ci sono atleti sia italiani ma anche stranieri volutamente quindi Angelo ha scelto degli atleti emergenti qualcuno un po' più affermato qualcuno meno per sfidarsi in questo diciamo primo torneo Sapto Revolt in modo da far capire che non vogliamo fermarci agli atleti italiani che non deve essere una cosa confinata in Italia avendo chiamato atleti anche stranieri è proprio un torneo che vuole espandersi fin da subito e quindi ci teniamo tantissimo saranno dei match davvero davvero spettacolari e già dal peso alla serata della cerimonia del peso secondo me ci sarà qualche scintilla ti dico solo questo con gli atleti e gli abbinamenti che sono stati fatti beh innanzitutto un grande applauso a Angelo Valente e a te e a tutto il team Kick & Punch Promotion permettimi anche di estenderlo a SAP che ovviamente ha contribuito alla nascita di questa di questa nuova idea di questa nuova promotion ecco volevo chiederti perché è una mia curiosità visto che in One in UFC comunque sono presenti anche delle cinture di campione verranno anche istituite delle cinture di campione per Revolt? è certo è già tu sapevamo tutto però io non è che ti faccio tutto sì certo è già stata creata la cintura Revolt e verrà anche questa presentata l'8 giugno alla Regia di Venaria perché poi ripeto la primo step è questo torneo c'è questa finale ma poi alla Regia presenteremo bene tutto il circuito Revolt quindi si parlerà proprio a 360 gradi della nuova realtà e vedrai che ci sarà ci sarà da stare molto molto attenti ecco anche io vorrei fare un ringraziamento scusami a SAP che come sempre è il nostro partner ormai tecnico unico da tantissime edizioni ci aiuta a concretizzare tutto quello che noi vogliamo ovviamente condividiamo con loro ma tutto quello che noi cerchiamo e vogliamo organizzare e concretizzare loro sono veramente un pilastro fondamentale questo che si concretizza anche nella persona come tu ben sai dell'avvocato Michele Bria Monte che è appunto il diciamo il nostro punto fermo ormai una nostra spalla sia degli eventi che di tutti questi progetti emergenti perché lui crede anche lui tanto in tutto questo sia come uomo d'affari ma anche come grande appassionato e perché no anche fighter come tu ben sai salirà sul ring nei vari match ormai è già qualche anno che lui decide di togliersi cravatta giacca e tutto quanto e si infila i guantoni e sta sul ring anche lui quindi secondo me anche questa passione questa sua dedizione perché si allena tantissimo si allena con una costanza che credimi è davvero incomiabile e anche al 2 marzo salirà anche lui ancora di nuovo sul ring del teatro principe e quindi tutto con un match internazionale anche lui e tutto questo diciamo lo porta ad essere probabilmente più incline e più volenteroso nel appoggiarci a sposare tutti questi nostri progetti tutto molto bello tutto condivisibile assolutamente sono ben felice di questo di questo progetto e soprattutto sono ben felice che tanti ragazzi tanti tanti fighters possono mettersi in mostra e magari riuscire ad avere quel qualcosa in più che di solito purtroppo perché si sa nei circuiti minori o comunque nei vari galà non è come nelle grandi promotion internazionali quindi speriamo che questo sia solo il primo di tanti passi e che questo nuovo circuito possa crescere esponenzialmente ma di questo ne sono sicuro perché voi non siete inclini al fallimento ma bensì sede garanzia di successo cara Marianna ovviamente estendo questo mio pensiero al grande Angelo Valente che è un grande amico un grande professionista grande atleta grande campione grande promoter e che sicuramente ha pensato a questa promotion proprio perché prima di tutto è stato un fighter e quindi si è messo dall'altra parte quello che faceva tanti anni fa e ha cercato sta cercando di trasmettere un qualcosa di positivo proprio per tutti i ragazzi che sognano qualcosa di grande anche qui in Italia ecco diciamo che questo è un progetto tutto italiano è tutto da sostenere anche perché nasce e cresce qui in Italia quindi vi saremo vicino noi soprattutto come media sport ma spero anche tante altre testate giornalistiche tante altre tv tanti altri tanti altri network ecco spero che ci sia una massima condivisione perché credo che questa sia una strada nuova una strada piena di entusiasmo una strada che può portare veramente una ventata di novità importante per tutta la kickboxing italiana sì vale io sono molto fiduciosa perché veramente quando scoprirete poi i dettagli di tutto quello che ci sta sotto sono sicura che avrà una grande ridondanza come progetto e secondo me veramente sarà una bella novità creerà un bello scossone all'interno delle nostre realtà soprattutto italiane alle quali non siamo abituate ecco ci tenevo a dirti l'ultima cosa sulla serata del 2 marzo che come sempre ovviamente oltre al matchmaking di alto livello e che regalerà spettacolo ci saranno anche degli intrattenimenti come ormai noti nelle nostre serate sempre innovativi mai proposti che sono sicura questa volta coinvolgeranno molto i nostri spettatori ci tenevo a dirlo non spoileriamo niente più no no basta vi invitiamo come già abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione prendete acquistate il vostro biglietto save the date sabato 2 marzo teatro principe di Viale Billigny Milano quindicesima edizione di The Night of Kick and Punch andate a cercare le varie pagine i vari account ufficiali del team kick and punch promotion per avere l'infoline oppure recatevi nelle due sedi del team kick and punch promotion e acquistate il vostro tagliato marianna abbiamo detto tutto per ora esatto ci riaggiorneremo per l'evento di giugno assolutamente noi ovviamente ci vedremo all'interno del ring il 2 di marzo quindi l'appuntamento per tutti è con la quindicesima edizione di The Night of Kick and Punch grazie a marianna basaturo del team kick and punch promotion per essere stata con noi grazie a te vale grazie a tutti buona serata ci vediamo il 2 marzo vi aspetto ringraziamo marianna e grazie a voi carissimi amici che ci seguite fedelmente ogni giovedì su media sport channel e su tutti gli account social di fighters life vi invito sempre a rimanere con noi vi invito sempre a sostenerci perché fighters life is the next generation of fighters grazie a tutti buonanotte alla prossima settimana grazie a tutti vuoi ancora più fighting vuoi ancora più emozioni da vivere fighters life ti offre quello che cerchi live e on demand su tutti i tuoi dispositivi 24 ore su 24 7 giorni su 7 accedi ai canali fighters life e vivi la tua passione fighters life è il primo canale sugli sport da combattimento gratis e senza vincoli economici per l'immagine dei tuoi eventi scegli fighters life scegli il meglio grazie a tutti 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 nel cuore di ogni italiano c'è la passione la forza e la determinazione per secoli la federazione pugilistica italiana ha custodito l'eredità di una nazione di guerrieri oggi come ieri siamo fieri di appartenere ed essere pugili oggi fighters life mediaticamente incarna la passione italiana del saper lottare e di ostentare sacrifici oltre ogni impensabile obiettivo sia che tu sia un principiante che desidera imparare o un campione che aspira a nuove vette ti spingeremo oltre i tuoi limiti unisciti a noi perché insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere la grandezza lascia che la tua passione si trasformi in viola grazie a tutti